L'incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio all'altezza del chilometro 82 dell'autostrada A19 Palermo-Catania. La vittima è Massimo Frumenti, 57 anni, romano, residente a Catania. L'impatto tra una Ford Fiesta e uno Pelaggila si è verificato tra gli svincoli di Rosa, nel territorio di Petralia Soprana e Resuttano, in direzione Palermo. Nell'incidente sono rimasti feriti gravemente un bambino e la sua mamma. Sono entrambi in prognosi riservata. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare i feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e le squadre dell'ANAS, che hanno temporaneamente chiuso al traffico in direzione Palermo il tratto dell'autostrada coinvolto dall'incidente. In azione anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto mortale. Questa mattina, invece, a causa del maltempo che si è scatenato nel palermitano, si sono verificati alcuni incidenti che hanno causato anche disagi nella viabilità. Sulla Palermo Sciacca, un auto articolato di una ditta di trasporti, si è messo di traverso nella carreggiata nel territorio di Monreale, mentre sulla A19, in direzione Palermo, un'auto si è schiantata contro il guard rail coinvolgendo anche un furgone nei pressi dello svincolo di Bagheria. Per arrivare nel copologo siciliano si è dovuto quindi uscire a Casteldaccio e percorrere la strada statale. Incidenti anche in città. Poco dopo le 7 di stamattina, una donna ha perso il controllo dell'auto in via le regioni siciliana all'altezza di Viugola-Malfa, nella carreggiata in direzione Trapani. La vettura si è ribaltata.